La terra dell'immaginazione 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 Non ho detto che sarei venuto a prenderti, papà Ho detto solo che ne avremmo parlato No, fermo! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, quindici, sedici, Diciasette, diciotto, diciannove e venti Sto arrivando, siete pronti o no? Ehi, signore, quello è nostro?